vogliamo proporre semplicemente e soltanto esclusiva muvenda casa braciola non è altro che un menù fatto di panini con una fetta di collo di maiale questo l'abbiamo fatto soprattutto per promuovere la carne buona e per promuovere gli allevatori di carne buona si si mangia questo pane croccante con 48 ore di lievitazione dove praticamente è tutto quanto naturale dalle cicorie che vengono raccolte ai formaggi ai salumi che vengono abbinati a questa braciola una cosa golosissima